Buongiorno, sono Stefania Cristina, sono un dottore commercialista, mi avvalgo di tre collaboratori e ho conosciuto Tuepi per caso. Ho deciso di andare a vedere appunto questo software perché nello studio avevo delle grosse difficoltà sull'efficienza organizzativa. Quello che mi ha colpito immediatamente è stata la semplicità del software, l'utilizzo lo utilizziamo da fine 2017, in pochissimo tempo siamo diventate tutte autonome nell'utilizzo per me è molto importante avere sotto controllo lo stato avanzamento delle pratiche e questo me lo consente. Ho praticamente annullato l'utilizzo di post-it per messaggi nei confronti dei miei collaboratori. Altra funzionalità che ritengo positiva è che da una mail posso aggiungere commenti, condividere con i miei collaboratori internamente, assegnare gli incarichi, gestire tutte le scadenze. È stato un investimento estremamente positivo in termini di organizzazione e quindi lo consiglio veramente a non solo i miei colleghi ma anche a tutte le aziende che hanno una certa struttura anche se piccola.